Benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi, il titolo è chiarissimo, il Milan vende tutti, il Milan saluterà Teo Hernández, il Milan saluterà Mike Magnone, il Milan saluterà Leao, saluterà Giroud, probabilmente anche qualche difensore, visto che comunque Ficaio Tomori è sempre molto appetibile, c'è Calunu che comunque piace in giro per l'Europa, insomma il Milan vende la qualsiasi. Quindi adesso ne parliamo insieme, vi ricordo innanzitutto di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e commentare per dirmi la vostra su questa situazione, perché ovviamente mi auguro che molti di voi l'abbiano capito se non tutti, è ironica la cosa, ma è ironica per un motivo molto preciso, perché in realtà il mio video è ironico, ma chi invece fa informazione non è ironico per nulla e continua a propinare queste notizie, che notizie di fatto non sono, che vanno in un'unica direzione e che hanno l'unico scopo di agitare le acque, di creare scompiglio e di far preoccupare i tifosi del Milan. Guarda caso puntualmente durante la sosta, perché durante il campionato di offerte non ce ne sono mai, poi quando arriva la sosta per le nazionali arrivano fiori di offerte a tutti i giocatori del Milan e guarda caso solo ed esclusivamente ai giocatori del Milan. Siamo una squadra, secondo molti, che ha una rosa non così forte, eppure tutta Europa vuole i nostri big, Teo Hernandez lo vuole il Bayern, lo vuole il Real, lo vuole il PSG, l'Eao lo vogliono tutti. Mignon è il portiere più ambito d'Europa, anche se a detta di tutti quest'anno sta floppando malamente, come hai detto Tomori piace di nuovo in Premier, Calulu lo vogliono tutti. Però hai mai visto che c'è stata un'offerta per un giocatore di un'altra squadra dell'Inter, un Bayern su Di Marco, un Real Madrid su Lautaro Martinez? Noi stiamo ancora aspettando il rinnovo che è pronto da sei mesi di Lautaro Martinez, ma ancora la firma non è arrivata, adesso probabilmente arriverà domani visto il mio video, però al momento ancora una firma non c'è. Eppure Lautaro Martinez nessuno lo mette sul mercato o sbaglio. Perché il rinnovo di Mignon è un problema e quello di Lautaro Martinez che invece sta dimostrando di essere un problema? Mignon è un problema senza che neanche ci sia una vera e propria trattativa. Teo e Hernandez hanno già deciso che non rinnova. Leao, nonostante abbia rinnovato l'anno scorso, comunque va via anche se c'è una clausola da 175 milioni. Lautaro Martinez che deve rinnovare da mesi non rinnova, il suo procuratore dice semplicemente che è una situazione complicata, però siccome invece la dirigenza Nerazzurra dice che va tutto bene, allora va tutto bene. Però il rinnovo intanto non arriva. Ripeto, poi c'è un Turam che è stato preso a zero e potrebbe essere una grande plusvalenza. C'è la Juventus che dovrebbe, che probabilmente dovrà ancora una volta cedere qualche pezzo pregiato per finanziare il proprio mercato. C'è il Napoli che perderà Ossimen e magari forse anche Varaskelia. Insomma, tra l'altro facciamo attenzione perché il Milan, lo ripetiamo nuovamente, e fa sempre comodo, fa sempre bene ricordarlo perché, visto che chi parla di queste cose fa finta di non saperlo, anche se lo sa molto bene, è l'unica tra queste squadre che ho menzionato, ma anche tra tutte le altre che non ho menzionato, che non ha nessuna necessità di vendere un giocatore. Perché il Milan, se arriva un'offerta da 200 milioni, per ipotesi, per Teo Hernandez, e il Milan la vuole rifiutare, può farlo. Poi, è evidente che di fronte a offerte di questo tipo il Milan non andrebbe a rifiutare, ma è l'unica in grado di poterlo fare, ad avere la forza volendo di poterlo fare. Una Juventus o un Inter, vista la loro situazione economica, non se la possono permettere. Turam, se dovesse arrivare un'offerta importante, farebbe lo stesso identico percorso che ha fatto Onana l'anno scorso, cioè arrivato a zero, rivalutato, e ceduto a una cifra importante. Così come probabilmente l'Inter dovrà rinforzare il centrocampo, visto che comunque avranno tutti giocatori un anno in più e magari qualcuno potrebbe andare via. Insomma, le altre che devono cedere non reggerete mai nessun titolo, da nessuna parte, su nessuna cessione e su nessun interessamento. In notizia di oggi, Zhang, anche in Italia è stata confermata l'accusa per cui è debitore di 350 milioni, fossero solo quelli. Però c'è qualcuno che non l'ha neanche riportata questa notizia. Viceversa, quando la Guardia di Finanza è andata a indagare sul Milan, per probabilmente nulla, per arrivare probabilmente a nulla, mentre qui c'è già una sentenza, lì c'erano i titoloni, adesso nessuno ne parla. Questo video voleva essere ovviamente molto ironico, il Milan non cederà probabilmente a nessuno dei suoi big. Eventualmente, se dovesse cedere qualcuno, cederà a fronte di un'offerta veramente molto molto importante. Veramente molto molto importante. L'anno scorso Tonali è stata una situazione particolare in cui è stato lui stesso ad accettare questa destinazione, e soprattutto perché appunto era arrivata un'offerta da circa 80 milioni, che il Milan ha ritenuto essere nettamente più alta rispetto al valore del giocatore. Se adesso si parla di cedere Teo Hernandez e Mignon, non bastano 80 milioni. Questo deve essere chiaro, perché Teo Hernandez e Mignon non sono Sandro Tonali, che con tutto il bene che gli voglio, e sapete quanto l'avrei mantenuto al Milan volentieri, ovviamente non rientra in quella categoria di fuoriclasse assoluti. Quindi se Teo Hernandez deve andare via, bisognerà doppiare quanto richiesto per Sandro Tonali. Se Mignon dovesse andare via, siamo comunque a cifre ben più alte. Leao ha una clausola recessoria, ma è stata messa lì per bellezza. Vuol dire che il Milan, la cifra per mandar via Leao che vuole, è quella lì. Non di meno, perché altrimenti la clausola recessoria non sarebbe stata inserita, no? Non pensate? Quindi non vi allarmate quando leggete che Teo Hernandez potrebbe andare in Arabia, perché non ci credo neanche, se lo vedo, che Teo Hernandez va in Arabia. Non vi allarmate quando leggete che Mignon, il Milan sta già individuando i sostituti di Mignon. Stamattina era tutto un Mignon il sacrificabile. Mignon sarà anche sacrificabile, sicuramente tra i big e quello che è più sacrificabile essendo un portiere. Ma non vuol dire che sarà sacrificato. C'è una differenza. Se arriva una squadra e paga 150 milioni, 120 milioni per Mignon, allora va bene, si cederà a Mignon, ma non c'è nessun motivo per cui il Milan vada a chiedere a qualcuno di comprare Mignon, o non c'è nessun motivo per cui il Milan debba accontentarsi di una qualsiasi offerta per Mignon. Viceversa, ripeto, ci sono squadre che hanno situazioni per cui sono obbligate a fare cassa annualmente di almeno 60-80 milioni di euro. Eppure nessuna delle big vuole mai nessun loro giocatore, almeno secondo quello che si dice in giro. State tranquilli, è una classica sosta per le nazionali in cui bisogna sparlare sul Milan, ma alla fine il mercato del Milan, tra l'altro, non avrebbe neanche bisogno, ho letto anche, va via per finanziare gli acquisti monotale che si faccia una grande squadra, premesso che il Milan ogni anno spende di netto, quindi escludendo le eccessioni, intorno ai 50-70 milioni, ed è l'unica squadra italiana a poterlo fare e a farlo, perché siamo gli unici che immettono costantemente liquidità. Ma al di là di questo, il Milan quest'estate, probabilmente, oltre ai soliti incassi per la qualificazione di Champions League, otterrà un buon tesoretto dai giocatori che sono già stati ceduti e verranno riscattati, come De Ketelare, intorno ai 30, come Messias, come Krunic, probabilmente vediamo cosa succederà con Krunic, come sa le Makers, che comunque o sarà riscattato o tornerà e sarà ricevuto più o meno alla stessa cifra, quindi il Milan già di per sé ha già messo un tesoretto da parte di 40-50 milioni, sono dei riscatti, eventualmente un altro paio di cessioni di giocatori minori si possono fare, intorno ai 15-20 milioni, arriviamo a 60-70, che vanno sommati a quelli che già di solito spenderemo, i soldi che l'anno scorso il Milan ha preso da Tonali, li prenderà in questo modo quest'anno, quindi con buona pace di tutti quelli che ci vedono già smantellare, perché poi vanno via tutti, perché va via Tornandis, va via Vignolo, va via Leao, va via Tomori, va via Calulu, vanno via tutti, va via Ben Nasser, andrà via Giroud, quello forse è vero perché non rinnoverà, però aspetto anche i titoli su Pulisic la prossima volta, visto che l'abbiamo rivalutato parecchio. State tranquilli, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate per dimmi la vostra, seguiteci su www.pienterminam.it e su tutti i nostri profili e scopriremo quest'estate quali saranno le cessioni degli altri. Grazie.